Ragazzi, giornata di ufficialità in casa Juventus, perché proprio questa mattina abbiamo letto dell'ufficialità di Arek Arkadius Milik alla Juventus. Il numero di maglia scelto è il 14, perché? Perché il 9 è ovviamente impegnato, la Juventus numeri alti come il 99 che aveva già indossato nell'avventura a Napoli solitamente non si usano quindi il 14 come TRR, uno degli attaccanti preferiti del nostro nuovo attaccante polacco e a proposito per altre curiosità e informazioni vi invito a passare qui sotto in descrizione e scaricare l'applicazione di Numero 10 tra l'altro applicazione con la quale sto collaborando, sto scrivendo degli articoli, sto creando dei contenuti, il post partita di domani di Juventus Roma sarà sul mio canale come al solito invece quello di Juventus spesso lo troverete sul numero 10, quindi scaricate gratuitamente l'applicazione per non perdervi tutti i miei contenuti e per magari portarvi a casa qualche maglietta che viene sempre sorteggiata in base alle vostre preferenze, vi lascio comunque il link qui sotto in descrizione. E allora ragazzi, eccoci qua, che cosa succede? Che la Juventus è pronta ad affrontare appunto la Roma di Giuseppe Murigno, Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa di vigilia io vi devo chiedere scusa perché solitamente alle nostre conferenze stampa, all'epilogo della conferenza stampa vi leggo proprio le frasi di Massimiliano Allegri oggi non sono riuscito a fare questa cosa perché sono appena arrivato a casa, ero a Venezia, avrete visto comunque i contenuti anche ieri vi ho portato il video dei sorteggi, ero proprio sul Lido di Venezia e quindi me lo sono ascoltato in macchina mentre tornavo dalla stazione con la quale poi ho preso il treno, dove ho preso il treno e quindi racconto un po' a braccio, ho qualche segno, mi sono segnato qualcosina che possiamo andare a ripescare per cercare di commentare i punti cardini e poi alla fine invece vi do una mia impressione perché ho avuto veramente un'impressione diversa per quanto riguarda Allegri intanto dice che domani sarà il primo scontro diretto dell'anno perché la Roma è una squadra che sta facendo bene è una squadra che ha già vinto le prime due partite, ha punteggio pieno, non ha ancora preso gol Murigno, allenatore che fa sempre piacere incontrare e che sta facendo molto bene che l'anno scorso ha messo già la prima tacca sulla cintura vincendo appunto la Conference League quindi sarà molto complicato affrontare questa partita io non sono nemmeno troppo in questo momento ottimista, credo che questo possa essere il termine giusto perché oggi sono preoccupato, oggi lo dico tranquillamente un po' di preoccupazione ce l'ho addosso infatti vincere a Roma contro la Roma domani sera e magari vincere facendo una bella partita fatta bene è una dose di adrenalina e di fiducia che in questo momento sento di volere sento veramente di volere una bella prestazione convincente, una bella vittoria convincente larga un risultato magari netto come il 3-0 dell'altro giorno per ricominciare ancora bene in casa per dare continuità al fortino perché l'anno scorso c'è mancata questa solidità all'interno delle mura domestiche e vorrei ripartire da qua poi l'Egri torna sul numero di palloni toccati da Vlaovic, dicono soltanto 9 lui dice guardate può toccarne una partita che se poi fa gol sarei contento dopo andiamo un po' più nel dettaglio perché è da qui che inizia a partire perché qua subito c'è la battuta classica di Allegri anzi svisceriamo subito il discorso che Allegri tante volte l'abbiamo visto, abbiamo ascoltato mille conferenze stampa si nasconde appunto dietro all'ironia cerca di utilizzarla per portare il discorso su binari che preferisce oggi ha fatto questa battuta tra virgolette poi è tornato un po' indietro e ha iniziato a parlare più apertamente delle partite di quello che è accaduto, degli errori che sono stati fatti è una cosa che raramente sento fare ad Allegri l'ammissione di un brutto primo tempo e quindi l'ammissione di aver preparato male la partita gli aggiustamenti che sono stati fatti, le parole con la squadra mi è sembrato un Allegri non so se è tirata d'orecchie, se c'è stata una tirata d'orecchie se è stato ripreso da qualcuno all'interno dell'Iventus o se lui stesso ha voluto fare un passo indietro rispetto alle dichiarazioni anche dell'altra sera in post partita che hanno fatto infuriare tanti io stesso vi ho detto certe cose che secondo me quando non si vince si possono tranquillamente evitare quindi questa sensazione che qualcosa sia cambiato all'interno di parlare di Allegri in conferenza stampa perché stava continuando a essere il solito e poi un passo indietro e l'apertura verso l'autocritica anche non completa perché ovviamente non ha detto io ho sbagliato però iniziare a discutere dove sono stati gli errori che cosa si farà per migliorare perché poi lui stesso dice abbiamo svuotato il centrocampo avevamo locatelli molto basso e le mezzeali molto alte quindi non c'era nessuno dentro il campo con la Roma proveremo a riempirlo un po' di più sono tutte cose che io ad Allegri difficilmente ho sentito dire in questa nuova avventura nell'Allegribis cosa che magari altre volte si poteva fare raramente ma l'ho sentito fare in altre conferenze nel primo ciclo ripeto raramente perché Allegri solitamente in conferenza non gradisce fare questi discorsi l'avete avvertito anche voi? avete notato questa strana sensazione? secondo me una breve tirata di orecchie può esserci stata questa è la mia sincera opinione vediamo se corrisponde a verità poi parla di mercato addirittura io qua mi aspettavo un non parlo di mercato pare ad essere un calciatore di un'altra squadra un tesserato al PSG invece dice non è ancora arrivato non so se arriverà intanto per la partita umana accontentiamoci di quelli che siamo e di Milik sono molto contento ci può dare qualcosa anche qua dice Milik è un giocatore a differenza di Vlaovic che attacca la profondità che viene anche incontro a prendere il pallone un giocatore che secondo me può giocare insieme a Vlaovic una piccola analisi di Milik ci ha già spiegato un po' come ce l'ha in testa l'idea di questo centramanti può giocare anche con Vlaovic poi dice c'è nulla osta non sappiamo se è arrivato non sappiamo se è convocabile però attenzione che mentre sono entrato in spogliatoio mi è venuta in mente un'idea e potrebbe pure partire al primo minuto allora io qua alzo le mani perché non ho idea di quello che si vorrà fare però Milik e Vlaovic insieme mi viene da dire sarà 3-5-2 sarà una sorta di 3-5-2 se vuoi far coesistere Milik e Vlaovic o un 4-4-2 però probabilmente con quelli che sono a disposizione oggi è difficile fare il 4-4-2 con Chiese di Maria fuori lo potrai pensare quando torneranno questi calciatori con un quadrado non dico a mezzo servizio ma quasi con dei terzini in questo momento difficilmente presentabili quindi magari vorrà sfruttare Costice e Quadrado Larghi e dare il ricambio a Quadrado con Desciglio eventualmente a Costice con Aleksandro per giocarsela in questo modo non lo so anche perché la difesa 3 potrebbe ripristinare Bremer al centro della difesa magari con Rugani sul centro-sinistra e con Danilo sul centro-destra o viceversa perché Bonucci non sta ancora bene non è convocato forse nemmeno con lo Spezia forse avremo disposizione con la Fiorentina sia Bonucci che Di Maria non si sente tranquillo ancora la gamba che gli dà un'impressione strana quindi vediamo abbiamo recuperato Szczesny intanto va l'ottaggio aperto tra lui Perin però vi dico la verità questa cosa di Milik mi ha mi ha un attimo acceso l'antenna mi ha sintonizzato le antenne su una difesa 3 vediamo questa la butto qua al vento vediamo se posso aver indovinato quando io stesso vi ho detto non credo che l'Aventus giocherà con la difesa 3 però ricordatevi che domani è una partita in cui la Roma gioca sì con la difesa 3 e quindi potrebbe essere la classica partita fuori dal coro in cui Allegri la studia in un certo modo quindi non lo so per domani ho questo sentore difesa 3 vediamo se se sarà vero oppure no Di Bala Di Bala è un giocatore che ha passato tanti anni con noi alla Juventus è un giocatore a cui abbiamo voluto bene ha fatto tanti gol e domani invece sarà sarà un avversario e speriamo che non faccia divertire i tifosi della Roma domani poi Allegri ribadisce un concetto che per quanto mi riguarda è banale in un allenatore e ci sta in un allenatore ovviamente di questo livello cioè io mi diverto quando vinco e allora ben venga cerchiamo di inseguire questa vittoria perché la parola vittoria non so se ci avete fatto caso ma nelle conferenze stampa sta venendo sempre meno fuori e allora iniziamo a rimetterla dentro perché io voglio che si parli di vittoria all'interno della Juventus voglio che si parli di vittoria in campo quando ci si allena in settimana negli spogliatoi non può essere passato in secondo piano questa cosa non può essere solo un'analisi logica e oggettiva della realtà e quindi è due anni che arriviamo quarti è due e tre anni che usciamo agli ottavi non siamo più quelli a Juve sì ma se ci mettiamo nella testa che è così e non mettiamo il focus sul vincere semplicemente perché si continui a dire se arrivi secondo terzo hai già migliorato la posizione dell'anno scorso sì ma non lo puoi dire la seconda giornata di campionato dici sul finale quando ormai magari non hai più niente da chiedere arrivare quarto o terzo poco ti cambia se inizia la seconda giornata di campionato a non avere la parola vittoria che circola nell'ambiente secondo me diventa molto 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 complicato e quindi benvenga la parola vittoria la parola vincere all'interno delle conferenze stampa e deve essere ben chiara questa cosa ai calciatori poi c'è questo questa autocritica se vogliamo di Allegri in cui dice il primo tempo con la San Doria è stato bruttissimo peggio di quello non si può fare niente l'ho detto pure ai ragazzi e dobbiamo ripartire qua dalla concezione che quello è stato un brutto primo tempo e abbiamo giocato male ha detto Allegri poi ha detto nel corso dell'anno ci saranno altre partite così altri primitempi altre mezz'ore perché ci saranno sicuramente delle partite in cui faremo fatica ci sarà da soffrire ma questo lo sappiamo il punto è che non può diventare lo standard da quello lì ecco l'importante è che quello non diventi lo standard poi che in alcuni momenti della stagione soprattutto quando si gioca ogni tre giorni lui dice soprattutto all'inizio perché probabilmente ci saranno i carichi da smaltire adesso c'è da giocare all'inizio e una volta ogni tre giorni quindi va bene capisco che ci saranno dei tratti della partita brutti ma succede in tutte le partite ma non può diventare lo standard quello lì e ribadisco che però il focus principale deve essere la vittoria perché poi Allegri tira fuori ancora la storia del preferisco essere vincenti ma bruttini che bellini che perdenti però il punto è che noi in questo momento non siamo né uno né l'altro cioè questo discorso di essere brutti ma vincenti o belli ma perdenti non ha senso perché oggi noi non siamo né carne né pesce non siamo nel momento in cui possiamo discutere come nel 2019 di vincere giocando male o perdere giocando bene il sarrismo contro l'allegrismo della lotta con Napoli che apro chiudo parentesi vediamo se Ronaldo va al Napoli perché inizio a pensare che possa essere vero anche qua chiudo la parentesi però non possiamo metterci questa contrapposizione oggi cioè prendiamone coscienza perché oggi non siamo né bellini ma vincenti né perdenti ma belli non siamo nessuna delle due cose e quindi scegliere una via e inseguire quella via cercando di raggiungerla c'è da lavorare Allegri dice che respira un'aria differente un buon spirito forse un po' in contraposizione anche alle parole di Ned che mi pare di aver letto ieri e quindi che dentro Juventus in realtà non c'è proprio tutto questo ottimismo ma perché l'ambiente non dentro loro ma l'ambiente Juve in questo momento c'è un po' sembra una contraposizione vediamo che cosa succede io lo ribadisco lo ripeto oggi sono un po' pessimista un po' pessimista ma devo dire la verità se come vero questa conferenza stampa ha avuto una sorta di mea colpa o passo indietro o bacchettata o ripresa strigliata vedetela come volete e quindi un'assoluzione di colpa aver individuato il problema aver accettato il problema e quindi lavorare per risolverlo benvenga la pacca nei denti di Genova perché è stato un investimento per il futuro nel caso perché io lo torno a dire lo torno a ribadire non mi interessa non mi interessa Allegri deve scegliere oggi se essere il problema della Juventus e quindi la Juventus se dovrà adoperarsi per risolvere il problema Allegri o essere la soluzione della Juventus perché l'allenatore della Juventus è uno dei allenatori più vincenti della storia della Juventus è uno degli allenatori più pagati in Serie A e non può bastare quello che abbiamo visto nell'ultima stagione non può bastare nemmeno quello che abbiamo visto fino adesso in questa stagione io lo ribadisco anche qua per me è stata una bella vittoria quella col Sassuolo non me la togliete l'emozione di dire che sono stato felicissimo dopo il 3-0 col Sassuolo perché siamo partiti col piede giusto non la partita più bella del mondo primi 20 minuti brutti anche all'interno però dei piccoli segnali di ripresa e quei piccoli segnali di ripresa ancora mi facevano ragionare su vuoi vedere che Allegri ha fatto un passo indietro ha ripensato e poi la settimana dopo mi vai a giocare a Genova e mi fai sta roba qua e allora torno a dire allora mi rilluso la settimana prima e come adesso vi dico allora magari mi sto illudendo in questa conferenza di aver visto annusato sentito una sorta di mezzo passo indietro ancora qual è la verità? la verità ce la dirà il campo appuntamento a domani dove faremo anche ovviamente la live reaction insieme su Twitch ragazzi un abbraccio un mi piace scaricate il numero di S qui sotto in descrizione e poi